inizierei dalle terre che sono nei colori alleati sapete come si fa a vedere ragazzi se sono i colori alleati o meno ve lo insegno avete presente il bordo delle carte di magic che ci sono i cinque puntini praticamente se i colori sono vicini si parla di colori si è così i colori vicini sono colori alleati i colori non vicini sono colori nemici quindi queste sono le non so come si chiamano le non so c'è un nome che hanno dato a queste terre le come come si possono chiamare essere qua le non è chiusa le land però cioè se succede se hai questo insomma se c'è l'opzione di avere un'altra le per land le per land così sono state chiamate e quindi che siano le per land allora secondo me ci sono da fare delle considerazioni di su queste terre sono dei colori alleati non so chiamiamole per land non so battezziamo noi il termine sono colori alleati quindi usciranno poi le altre cinque sicuramente nella prossima espansione o nelle prossime espansioni no perché tanto non è che il nome il nome lo sceglie la gel e le folle quindi se tu dici che cioè per land può essere carruccio lo teniamo soulmate land insomma chiamiamole possiamo chiamarle anche monte land per quanto mi riguarda allora partiamo subito con una cosa che ho sentito dire nel mio discord però non da illustri simi carte nuovisti content creator ragazzi non entrano in timeless mai perché nessuna terra senza sottotipo di terra può essere giocata mai in un formato con le fetch tranne se c'è scritto vinci la partita non è il caso di queste terre sono terre molto forti ma non da formati come con le fetch quindi modern non esiste timeless non esiste ok questa è una terra doppia che non entra tappata terra doppia che non entra tappata quali terre doppie che non entrano tappate conoscete voi nella storia di magic ve le dico io le shock land in realtà entrano tappate per stapparle devi pagare due punti vita le pale land non entrano tappate esatto rift come dice morris le pale land non entrano tappate le tele pale land entrano stappate però per pagare umana o l'altro di pagare un punto vita no no abbiamo appena iniziato con gli spoiler appena adesso questo è la prima il primo commento volevo fare sulle terre perché se ne è chiacchierato tanto volevo dire la mia e voglio farci pure un video su youtube a parte slow land e fast land non entrano cioè dipende dal turno quindi cioè sono tutte carte che dipendono cioè le tranne le pale land e le dual land e le dual tutte le altre carte tutte le altre terre entrano stappate se c'è una condizione queste no queste no ok non hanno i sottotipi base sarebbero cioè coi sottotipi con i sottotipi base sarebbero tipo le carte più forti cioè sarebbero due al land praticamente dai perché vuol dire che ne appoggi una e l'altra con l'altra attingi isola o swamp mi viene difficile credere che nei bicolor queste terre qua anche in paio niri non si giocheranno mi viene difficile i standard ovviamente si giocano queste entrano stappate ma ti hanno un solo colore finché non è una basica sì è vero ma entrano stappate e non per forza una basica basta una shock land perché non dice se controlli un'isola o una palude base dice se controlli un'isola o una palude queste se appoggiato una shock land entrano sempre con tutti e due i colori di mana che possono essere attinti sono molto più forti alle pain land queste secondo me ragazzi eh poi dipende dal mazzo però in historic si possono giocare secondo me le shock land che vanno a braccetto con queste anche le prismatic te le fixano e cioè in paio l'università si giocano ve lo dico io oggi oggi che giorno è oggi è il oggi è il 4 settembre sono le 21 e 01 del 4 settembre noi siamo in diretta su twitch sul canale twitch luigi monte su youtube sentiranno questa cosa qua non so quando però prima dell'espansione sicuramente queste terre qua si giocano sicuramente in pioneer nei fermati con le fetch secondo me no e si potrebbero giocare in historic perché il fatto che queste qui diano come quando entrano comunque danno male in colore cioè questa da anche il mana generico cioè tu con due di queste puoi pagare che ne so un mind stone perché ti danno un mano a prescindere cioè non entrano stappate entrano sempre stappate non entrano tappate a me piacciono molto ai piacciono molto starà da vedere potremmo anche essere davanti a delle terre tra le più forti presenti standard negli ultimi anni po' del pioneer ma la poi dipenderà dai mazzi però c'è ripeto tu hai una terra che entra sempre stappata e che la condizione per attingere l'altro colore è minima non è una condizione difficile cioè una condizione minima cioè questo secondo me rende il tutto più succoso perché la condizione è devi controllare una shockland e poi altra cosa sono le terre migliori in deck dove serve solo splashare carte grandissima osservazione leunam oggi leunam ne sparate 3-4 interessanti eh ti tengo d'occhio ottima osservazione se devi splashare sono gratis terre da 20 euro a quanto stanno le shockland? a quanto stanno le shockland? mi dite a quanto stanno le shockland più o meno 20 euro è tanto che mi sa che 20 euro sono le shockland e allora no che 20 euro no le shockland sono più forti ovviamente in più hanno il sottotipo di terra no però sono delle rare che se le sbusti secondo me quelle 5 euro te le fai e le mantengono 5-6 euro dai non sono due all'end però potremmo avere delle terre finalmente che dallo standard entrano in in pioneer questa è la mia idea perlomeno le altre le altre considerazioni da fare in realtà sono che vabbè usciranno quelle dei formati dei colori nemici sicuramente però adesso ci becchiamo gli alleati in historic potrebbero vedere vedere posto per lo stesso motivo perché si possa vedere posto in pioneer si giocano le stesse terre praticamente in historic e pioneer essendoci le fetch quindi sono formati uguali come mana base praticamente non ci sono terre che si giocano no ci sono le terre di moderno horizon quelle lì che si giocano solo in historic che ti fanno pescare qui c'è più concorrenza in historic c'è più concorrenza però questa in control che fanno la giochi ti dà mana bianco ce l'hai ti metti la shock nel dopo non lo so è da vedere forse sono più per aggro queste forse sono più da aggro perché se devi giocare in control magari di primo ti metti una terra che ti fa scry o qualcos'altro forse è più da aggro però io credo che si giocano 100% questo 100% no 90% 90% lo vediamo in pioneer i standard beh ovvio espansione standard che vuole che non si giochino le terre standard quello è scontato volevo fare una volevo porre l'attenzione anche sulle terre comuni no basta una basta una shockland leggente perché ripeto ancora una volta il secondo colore lo addi se tu controlli una swamp o una mountain non una swamp base o una mountain base basta una shockland non servono terre base ovvio che giochi magari qualche terra base anche però ti basta tecnicamente una shockland dracdos e tutte e quattro quelle che le verge che ti entrano ti entrano stappate quindi ho un trioma esatto cioè sono tante anche le surveillance di di morder hanno il sottotipo di terre ci sono ci sono giocate eh sì sono i mirex e le cavern se giochi se giochi solo quelle ci sono queste terre qui comuni interessanti a loro volta che parlano sono urlano pauper allora io adesso non so se queste qui in pauper si possono giocare però se non sbaglio in pauper si giocano delle terre doppie che entrano sempre tappate senza condizione che magari ti hanno un punto vita non so i deserti non so queste possono entrare stappate non lo so pauperisti se ci siete vabbè limited molto forti in pauper se c'è qualche pauperista che ci dà una dritta tutti i colori qui sono già escono già tutti i colori nemici alleati esce tutto insieme molto bene puoi vedere le 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 arte di questa espansione sono bellissime poveri del mondo unitevi eh non so in pauper sono comuni da un ok adesso guardiamo tutto cioè a puntate guarderemo tutto quindi nessuno che gioca pauper si giocano quali dove dare perché hanno i tipi e si possono prendere con i ciclanti di lotter queste non ci hanno i tipi queste non ci hanno i tipi effettivamente quindi potrebbe essere quello il problema del pauper però vabbè anche per chi vedrà su youtube il video commentino se queste terre in pauper sono giocabili ciao marcus quindi possiamo dire che possiamo finire le terre che per adesso abbiamo visto con anche la lera così facciamo un capitolo terre e lo chiudiamo questa qui ha exproof enchantment land aspetta che la ingrandisco questa recita exproof quando è vabbè entra tappata quando entra scegli un colore ha da umana di qualsiasi colore la cosa figa di questa terra è che è un incantesimo e in questa espansione ci sono degli effetti che recitano quando un incantesimo entra nel campo di battaglia quindi questa è una terra che ti può fixare il mana e in più ti fa triggerare sull'incantesimo quindi così nominiamola non credo sia una carta che potrà essere vista in format di eterni però o perlomeno non mi viene in mente nessun formato entra tappata sì questo è un grandissimo problema però da nominare incantesimo land magari exproof ovviamente non conta quasi un cazzo su sta terra però nominiamo l'andava nominata quindi capitolo terre fatto quindi youtube abbiamo il video sulle terre quindi questo confezionato le terre di duskmoon quindi un saluto ai amici di youtube ci vediamo al prossimo video ok quindi volevo fare il video sulle terre perché secondo me ci poteva stare perché comunque ci sono ste terre che secondo me sono forti queste qua che potevano essere utili per il power ok